Siamo a vivere Quattro attori e il racconto di una vita lunga e 53 anni, quella di Pierpaolo Pasolini, raccontata con Pa, lo spettacolo in scena all'auditorium Tarentum di Taranto di e con Alfredo Traversa e ancora con Maurizio Ciccolella, Tiziana Risolo e Marina Lupo. Si dimentica quasi subito che sul palco sono soltanto quattro gli attori ad interpretare personaggi sempre nuovi, raccontando tra l'altro anche quel rapporto profondo con Maria Callas. È uno spettacolo, un'opera che ho voluto realizzare nel quarantennale della sua morte proprio per indagare aspetti poco noti e alcuni francamente del tutto sconosciuti. È un Pasolini nostro in Puglia, a Taranto, a Lecce. È un Pasolini che mostra la sua virilità, il suo essere uomo, il suo essere maschio con un rapporto d'amore, di corrispondenza, d'amorosi sensi con Maria Callas. Ma è un Pasolini che mostra la sua apertura con Ezra Pound. È un Pasolini davvero che mi ha molto entusiasmato. Vedo che anche i giovani sono presi da questa nostra proposta. Uno è il messaggio, cercare la verità detta con coraggio. Bisogna esporsi con chiarezza e umiltà senza compromessi.